Le previsioni meteo in Sicilia per venerdì 22 novembre di Globus Television. Giovedì, tempo a tratti instabile. Giornata con un cielo molto nuvoloso ma asciutto fino al pomeriggio, poi peggioramento sulle province occidentali con rovesci sparsi. Venti forti di libeccio, mari molto mossi, agitato il tirreno. Temperature massime fino a 25 gradi.